5, 4, 3, 2, 1, 100 accenno sinistra, 50 attenzione sinistra 2, subito destra 2 sinistra 2, subito destra 2 30 sinistra 2 sinistra 2 in destra 3 lunga, 100 a rail, tornante destro rail, tornante destro 30 sinistra 2, 30 sinistra 3 in destra 3 destra 3 in sinistra 3 e a rail e a rail, attenzione destra 2 in sinistra 2 e accenno destro e sinistra 3 in destra 2 in accenno sinistro diventa dopo rail sinistra 3 dopo rail sinistra 3 in destra 3 accenno sinistro 30 dopo rail destra 3 50 rail sinistra 3 sinistra 3 in destra 3 in accenno sinistro in sinistra 2 e dosso accenno destro in destra 3 subito sinistra 3 in destra 4 100 fai attenzione inversione sinistra 100 accenno destro 50 destra 2 destra 2 e accenno destro 100 stai destro dopo dosso sinistra 1 dopo dosso sinistra 1 e accenno destro 200 dopo dosso 200 sinistra 4 100 dopo dosso attenzione sinistra 2 dopo dosso attenzione sinistra 2 subito destra 2 30 destra 2 lunga 100 sinistra 3 sinistra 3 dopo stai sinistro e dopo dosso sinistra 2 sporco sinistra 2 sporco e accenno destro 50 accenno destro 50 fai molta attenzione molto sporco sinistra 3 fai molta attenzione sinistra 3 sporca 30 destra 2 e accenno sinistro sporca 30 molta attenzione sinistra 2 sporca sinistra 2 sporca e accenno sinistro in destra 3 diventa 2 chiude diventa 2 diventa 2 chiude diventa 2 in sinistra 2 sinistra 2 e destra 2 dopo ponte sinistra 2 50 destra 4 attenzione 30 destra 3 30 destra 2 destra 2 30 sinistra 3 in destra 3 subito sinistra 3 50 accenno accenno destra sudosso 200 accenno sinistro 200 agli alberi fai molta attenzione destra 2 dosata destra 2 dosata 50 accenno sinistro dosato e a rail sinistra 2 rail sinistra 2 in destra 2 in destra 3 in sinistra 2 attenzione subito inversione destra inversione destra in destra 3 in sinistra 3 diventa 2 in destra 2 destra 2 in sinistra 3 dopo dosso 20 accenno destro accenno destro in sinistra 3 subito destra 2 ampia in sinistra 3 30 sinistra 3 lunga 50 sinistra 3 100 al ponte destra 3 diventa 2 lunga destra 3 diventa 2 lunga in sinistra 2 lunga sinistra 2 lunga 30 attenzione inversione sinistra in destra 3 in accenno destro in accenno sinistro 50 stai destro in sinistra 1 attenzione 200 in sinistra 3 chiude 2 sinistra 3 chiude 2 e al ponte diventa 3 apre 100 3 apre 100 destra 2 destra 2 lunga apre destra 2 lunga apre subito sinistra 2 subito sinistra 2 in 50 destra 3 subito sinistra 2 50 destra 3 100 sinistra 2 subito destra 2 apre subito destra 2 apre 100 destra 4 50 destra 4 in sinistra 4 30 destra 4 30 sinistra 4 in accenno destro 100 destra 2 diventa 3 apre lunga diventa 3 apre lunga in accenno sinistro accenno sinistro in accenno destro in sinistra 3 in accenno destro subito sinistra 2 lunga subito sinistra 2 lunga in destra 4 50 accenno destro 50 rai sinistra 3 in destra 4 e accenno destro in sinistra 4 e destra 4 50 accenno destro 50 accenno destro 50 sinistra 3 sinistra 3 in accenno destro in sinistra 4 in sinistra 4 50 alla zebra sinistra 2 50 accenno destro diventa destra 2 accenno destro diventa destra 2 destra 2 diventa in sinistra 2 diventa 3 sinistra 2 diventa 3 100 sinistra 2 sinistra 2 in destra 3 in destra 3 in destra 2 lunga diventa 3 50 accenno destro in accenno sinistro 30 accenno sinistro su fine giù 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 ottimo questa sicuramente è migliorata mamma mia 1 2 1 2 1 2 2 Grazie.